Benvenuti, oggi voglio parlarvi di un libro molto interessante di Mauro Boselli che ci descrive alcune tecniche di sceneggiature e ce ne fa vedere addirittura una sua. La cosa curiosa di questo libro che vedete qui edizione Arcadia il principe degli elfi è che contiene totalmente la sceneggiatura originale del principe degli elfi qui c'è anche la copertina dell'album poi vi farò vedere il perché. La cosa interessante di questo libro che è descritto e raccontato diciamo così in prima persona da Mauro Boselli è che non ha disegni, illustrazioni ma contiene appunto la sceneggiatura completa. La sceneggiatura di Boselli come ce la descrive lui, intanto vediamo com'è il libro, il libro contiene una sua introduzione ovviamente e di cui andremo a parlare perché ci sono alcune cose interessanti da sapere e la sceneggiatura completa pagina per pagina di tutta la storia. Per quanto possa essere anomalo come il libro che non ha nessuna immagine, nessun disegno, nessuna non so intervista, foto eccetera, questo album è molto molto difficile da trovare è diventato proprio una rarità se dobbiamo dirlo così probabilmente perché ne furono stampate poche copie e capendo il, come posso dire, l'anomala descrizione di quello che ne conteneva la gente insomma se lo tiene volentieri. Allora andiamo a vedere e parliamo un po' più tecnicamente della sceneggiatura che in questa descrizione delle pagine sono già sezionate. Allora diciamo subito che Boselli adotta la tecnica come ci racconta lui nella prefazione del layout cioè lui disegna già il taglio delle vignette per il disegnatore descrivendogli anche quello che verrà detto e come dovrà essere il disegno chiaramente cioè quello che dovrà rappresentare. Questa tecnica chiamata layout come si spiega lui era un po' diversa da quella che veniva usata o viene usata anche da altri disegnatori però adesso a quanto ci dice lui è la più comune. la vecchia tecnica che usava Bonelli era lo storyboard cioè Bonelli scriveva appena i dialoghi e la descrizione della vignetta facendo il disegno non so se c'era Zagor con la scura e disegnava stilizzato chiaramente con lo Zagor con la scura in primo piano in campo lungo con lo sfondo insomma descriveva il disegno facendolo proprio sul foglio. Questa ci dice lui che si chiama è una tecnica che viene chiamata molto vicino al storyboard mentre quella della descrizione scritta col taglio delle vignette viene chiamata layout termini che poi nel mondo della cosa computeristica è molto conosciuta. Allora per fare un esempio di ciò di cui parliamo andiamo a vedere ad esempio la prima pagina del prologo. Ora voglio farvi vedere proprio la descrizione. Io sono al rovescio però insomma voi lo capirete lo stesso. Ad esempio vedete qui dice didascalia in basso a sinistra con la scritta della didascalia. Gli uomini bianchi eccetera eccetera eccetera. Vedete infatti che qui nella pagina ecco così in campo lungo si vede meglio del disegnatore c'è in questo caso Torricelli c'è la didascalia in basso a sinistra e poi la descrizione della vignetta rappresentata dal disegnatore quindi l'alba tre streghe che bruciano in campo lungo è proprio dettagliata nei minimi particolari ovviamente. Seconda vignetta, terza vignetta, seconda vignetta e terza vignetta. Quindi viene già sezionata la pagina come dovrà essere impostata poi dal disegnatore con la descrizione sia della didascalia che del disegno. A parte questo breve esempio che poi ovviamente si ripropone per tutta la sceneggiatura. Parlando poi del libro nel dettaglio è una cosa abbastanza come vi ripeto curiosa un libro senza disegni e senza immagine però devo dire che io sfogliandolo ovviamente non leggendolo tutto ma sfogliandolo e prendendo qualche pagina di riferimento è molto interessante vedere come descrivono le scene e anche le parole che dovremmo dire i personaggi e devo dire che io non ce la farei mai cioè non riuscirei mai a fare lo sceneggiatore perché immaginarsi già la scena la posizione, il movimento o quello che sarà bisogna essere dotati veramente come Burattini, Boselli, poi tantissimi altri, Rauk. Insomma secondo me è un lavoro veramente, è molto più difficile secondo me scrivere, immaginarsi le tavole secondo me che disegnare. Poi sarebbe da discutere, parlarne, ma è una cosa che io ne sono convinto che forse sceneggiare una storia, fare tavola a tavola tutto lo scritto, i movimenti eccetera sia più difficile che disegnarlo. Nel disegnare se sei bravo a disegnare devi fare quello che ti dicono e quindi la tua abilità è solo nel disegno e chiaramente metterci del tuo ma scriverla devi partire da zero e secondo me insomma anche questo è un bel dono. Per tornare al libro allora questo libro brossurato, carta lucida, morbida, della serie La Macchina a Scrivere, Zagor, la sceneggiatura completa, originale, edizione Arcadia. Come vi ripeto, vediamo un pochino, vi faccio vedere anche un po' di credits qui per vedere che la copertina è una inquadratura di un disegno di verni e poi i test di Boselli ovviamente e poi c'è poco altro da dire, a parte l'introduzione che come vi dicevo Boselli ci spiega un pochino la tecnica, la differenza tra il layout e lo storyboard come faceva anche Bonelli che la leggenda narra che lui scrivesse, anzi disegnasse le sceneggiature mentre guardava la televisione, cioè una leggenda, no è una leggenda reale perché poi faceva così, ne lo sappiamo. Poi vediamo Chi è Zagor di Moreno Burattini, quindi una descrizione del personaggio, qui il disegno, la copertina dell'albo che poi diventerà questa sceneggiatura che lo vedete anche qui reale, che per l'altro cosa molto interessante, vado a rivedere che il codice a barre era nella prima di copertina, non era dietro, cosa strana, ma vabbè andrò a rivedermi questa cosa. E poi niente, dopo l'introduzione, anche questa piccola introduzione di Bonelli Burattini parte la sceneggiatura, quindi vi ripeto, un libro molto strano, però molto molto interessante che per quanto possa sembrare assurdo è molto molto difficile da trovare, esaurito, fuori catalogo e insomma non si trova. Però è una curiosità zagoriana che qualche appassionato ha e io se lo trovate ve lo consiglio se volete approfondire un po' più l'argomento delle sceneggiature. Per questo video è tutto, alla prossima puntata! Grazie a tutti!